Ciao, sono Marco Busa, il size manager a Parel di Saleva e vi presento una delle novità di ISPO 2014. È il primo pantalone zip-off da scierpinismo, si chiama Herzlan, ed è fondamentalmente una bermuda in polipropilene con trattamento DVR, quindi altra idrorepellenza e altissima traspirabilità, aiutata anche da queste due ampie zip di ventilazione laterali, a cui viene zippato un fondo in Dura Stretch e in Powertex. Quindi il concetto è quello di offrire un prodotto iperleggero, sia per l'allenamento, ma anche per lo sci alpinismo primaverile, dove è possibile affrontare l'avvicinamento solamente con la parte superiore, dove poi verrà zippata la parte inferiore nel momento di necessità. La seconda novità in Casa Saleva è il nuovo completo Glen Blake, è il nostro completo da Frisky Monteneering. Per il primo anno l'outfit non è più nel tessuto Powertex, ma è in Gore-Tex tre strati stretch. Le modifiche principali sono principalmente nella vestibilità, l'outfit ha un fit più vicino al mondo e all'utilizzo per l'alpinismo e meno al freeride. La costruzione della giacca è ovviamente una giacca dove è possibile fissare il pantalone e creare un'unica soluzione per una maggiore protezione, mentre il pantalone ha una pettorina removibile e possiamo vederla qui, quindi è stata abbassata la vita, ma c'è questa pettorina zippabile che può essere utilizzata in freeride ma poi tolta nel momento in cui si utilizza il cabo per l'alpinismo classico. Grazie a tutti! Grazie a tutti!